Il Crotone vince e convince a Latina, sale a 22 punti e devo dire oggi bene, oggi assolutamente bene, ne parliamo, non abbiamo subito gol, questa è una notizia assolutamente da far presente perché non accadeva da un po' di tempo e la prossima sarà importante per dare continuità come stiamo dando nell'ultimo periodo in casa contro la Juve Next Gen. Allora, partiamo subito da quella che è la nostra fase di possesso, di costruzione e come ha difeso in Latina, poi andremo avanti a parlare di altro. Crotone che ha costruito con questo 2413, allora in costruzione bassa come poi spesso accade, anzi quasi sempre, 1 che è il portiere, più 4 più 2, costruiamo quasi sempre così e spesso siamo usciti a destra, sfruttando il fatto che loro non pressassero con grande intensità ma il loro lavoro era più a schermo da parte soprattutto di questi tre rossi neri qui che vedete davanti e si usciva spesso su Guerini per poi verticalizzare su Silva che lavorava in questo spazio qui e poi si andava a verticalizzare ulteriormente, però spesso si è usciti in questo modo dalle loro pressioni. Un Silva che oggi ha lavorato molto dentro al campo, spesso Silva l'abbiamo visto in alcune altre partite, più in ampiezza per poter rientrare sul mancino e puntare, oggi ha lavorato molto dentro al campo anche perché per caratteristiche questo Latina lo spazio nei mezzi spazi che sarebbero queste zone di campo qui, fondamentalmente, cosa è successo? Oddio un disastro, queste zone di campo qui ovviamente come vedete voi a centrocampo le lascia, ovvio non le lascia scoperte, adesso ne parliamo, come le coprirebbe? Comunque 2-4-1-3 fondamentalmente con i due terzini che partono sulla linea dei due centrocampisti che lavorano molto in coppia, sia in fase di possesso che poi in particolare in non possesso, in fase di possesso sono piatti o comunque non lavorano a compasso o sulla linea verticale ma spesso in orizzontale. I terzini hanno lavorato oggi in ampiezza in particolare per arrivare poi a crossare dal fondo, spesso girano a sinistra e poi Tuminello che veniva a giocare incontro con i due esterni, come detto più dentro al campo nei mezzi spazi e Gomez riferimento centrale. Una buona fase di costruzione in realtà poi in particolare nel secondo tempo perché non ce n'è stato neanche bisogno, nel primo tempo abbiamo fatto i gol tutti in transizione offensiva, positiva, che dir si voglia, abbiamo fatto quattro gol così praticamente, cioè recuperiamo palla, andiamo in verticale e facciamo gol. Abbiamo avuto le occasioni anche in costruzione, abbiamo costruito anche in questo senso situazioni importanti, ma non abbiamo fatto gol in questa maniera. Però comunque è squadra che ha sempre questo tipo di principio. Come detto loro hanno difeso con questo 5-1-3-1, con qui Bocic che galleggiava tra due centrali, faceva questo tipo di corsa per chiudere la linea di passaggio verso l'altro centrale quando aveva palla l'altro, e poi i tre davanti che erano in prota Riccardi e di Livio, che erano a schermo per cercare di schermare linee di passaggio, ma non sempre l'hanno fatto bene e con solo Peterman in questa zona di campo qui, come vedete, diciamo che era abbastanza in inferiorità numerica. Ovvio che l'idea qual era? Era quella di fare aggredire in avanti i centrali, in particolare il lato palla, quindi se si sviluppa a sinistra, qui per esempio Marenko doveva uscire aggredire in avanti sul proprio uomo nella zona e farlo per non farlo girare, però ecco già nella parte opposta del campo non lo facevano e loro hanno sofferto tantissimo, tante cose in fase di non possesso, sia la palla alle spalle dei braccetti, hanno sofferto anche perché Vona, Marenko sono abbastanza lenti a ripiegare, hanno sofferto tanto anche i cross dal fondo nel primo tempo, non hanno presa una sui cross che sono arrivati spesso da sinistra e poi erano tanto lunghi a centrocampo perché va bene difendere, cioè va bene no perché lasci troppo spazio, ma comunque difendere così ci può anche stare come idea. Se però la squadra aggredisce in avanti la fai stare corta perché se tante volte su palla contesa o in transizione la difesa scappa, guardate quanto spazio c'è in mezzo al campo, c'è solo Peterman a coprire 30 metri di campo, il lungo e il largo capite che non è possibile neanche, non lo so, un superman riuscirebbe, quindi la squadra doveva aggredire sempre in avanti con questo tipo di schieramento perché sennò ovviamente ti allunghi e lasci spazi incredibili, che il Crotone devo dire in questo senso, soprattutto in transizione positiva ha sfruttato. Andiamo a vedere adesso quella che è la fase di costruzione del Latina, ovviamente vi ricordo che andrebbero anche riviste meglio le partite, adesso io faccio un'analisi dopo 5 minuti della partita senza replay, senza niente, con inquadrature scandalose, quindi è difficile anche vedere tante cose, ma comunque questa è la fase di costruzione, 1-4 da parte del Latina con i tre difensori centrali abbastanza larghi, qui spesso piatti ma non sempre, qualche volta lavoravano in verticale, quindi diciamo a compasso Peterman e Di Livio, suatemi e Riccardi che sono sicuramente i due giocatori più importanti in questo senso, in particolare poi Di Livio che ha grande tecnica, e Riccardi e Di Livio, ancora, mi confondo, a parte che sono uguali tra l'altro Riccardi e Di Livio anche solo per apparenza fisica, quindi Riccardi qui e Di Livio in questo mezzo spazio qui, tanto che infatti loro hanno sviluppato e come ideano quella di partire costruendo a destra per chiudere l'azione a sinistra con Crecco che arriva al cross, infatti poi viene cercato Crecco che lavora qui in ampiezza anche con dei cambi di gioco perché è un giocatore importante che mette anche a un buon piede, a un buon mancino, se gli viene lasciato il tempo di crossare può mettere in difficoltà diciamo con queste palle tagliate e quindi questo è, tra l'altro interessante anche che Peterman spesso va a invadere l'area mentre resta più al limite Di Livio, però ecco qualche volta è accaduto neanche troppo. Tra l'altro mi stavo scordando ragazzi, fase e fase. Lavoro sulle palle inattive, le palle inattive a sfavore del Latina a zona in linea sul limite con Di Livio davanti alla linea difensiva e Crotone che invece sugli angoli è lavorato a zona con questo 5-2, Ovisac al limite centrale per uscire poi in questa zona di campo qui davanti all'area e Silva e Gallo nel 2-2 esterno fondamentalmente. Quindi questo è come ha costruito il Latina, ma com'è che ha difeso il Crotone oggi? Con questo 4-4-2, come abbiamo praticamente sempre visto nelle ultime giornate squadra che cerca comunque di stare corta, con una discreta pressione alta neanche troppo forte, ma in realtà Polì è di peso anche dal fatto che mi ha fatto gol dopo tre minuti quindi tendenzialmente le squadre dopo che hanno fatto gol, anche solo inconsciamente un po' l'intensità la abbassano, quindi è anche difficile da valutare. Però squadra che sulle rimesse scivola anche abbastanza, devo dire, la tua palla e c'è sempre da stare molto attenti perché noi tendiamo, quando difendiamo basso a far scivolare molti due mediani perché giustamente lavorano in coppia e mi riferisco adesso, lasciamo stare quelli della Latina, mi riferisco a Gallo e Schirò se la palla si trova in questa zona di campo qui, ovviamente c'è qui Schirò che scivola pronto comunque a scala tra i centrali, pronto a raddoppio, comunque scivola e Gallo lo accompagna, abbastanza vicino, quindi si va a creare spazio in questa zona qui nel mezzo spazio opposto tendenzialmente e ovviamente bisogna essere bravi con Silva e con Tuminello che si abbassa molto infatti quando difendiamo con Gomez che resta difensore centrale proprio per sopperire a questa cosa qui anche perché magari Silva non sempre si applica a dovere e nel primo tempo su qualche cross dal fondo questo spazio qui davanti alla difesa o meglio davanti all'area di rigore l'abbiamo un po' lasciato quindi su qualche cross che arrivava dalle fasce questa zona di campo qui l'abbiamo lasciato un po' libera perché arrivava a Rimorchio tra l'altro poi loro hanno tirato anche diverse volte da fuori con Peterman però ecco è da tenere presente questo aspetto qui poi per il resto in pressione alta come dicevo non troppo intensi ma squadra che lavora uomo su uomo lato palla con distanze abbastanza ravvicinate e quando scivola un mediano ecco in zone più alte di campo l'altro resta invece in posizione centrale quindi non va troppo diciamo a stringere con l'altro centrocampista e ovviamente difensori che sono pronti da gradire in avanti l'uomo nella zona e tra l'altro invece in caso di palla centrale i due centrocampisti si vanno ad accoppiare con i due loro registi quindi Gallo con Peterman e Schiro con Di Livio con distanze anche abbastanza ravvicinate per non farli ragionare non far arrivare palla semplice a loro due che sono fondamentali nella loro costruzione e parliamo un po' della cronaca a questo punto tra l'altro i primi gol non li ho visti neanche benissimo perché purtroppo basta che ti concentri un secondo e poi nei replay ne fa vedere uno che è la fine fine dell'azione quindi neanche si riesce a vedere come sono nati quei gol comunque al terzo minuto palla intercettata a centrocampo da parte del Crotone non ricordo ripeto da parte di chi e transizione offensiva che poi chiude Ovisac trovando il gol del vantaggio quindi un ottimo approccio da parte del Crotone è una partita comunque nel primo tempo abbastanza equilibrata perché poi loro hanno anche reagito provando a costruire con i tre centrali provando a lavorare soprattutto a inizio costruzione a destra per poi chiudere l'azione spesso a sinistra un Crotone che però è bravo anche dopo il secondo gol a ricomporsi bene quando magari perde palla a concedere poche occasioni pulite e a sfruttare i tanti spazi che Latina lascia davanti alla difesa al decimo minuto ottimo anche un'altra transizione positiva una dotazione offensiva che porta al 2-0 abbiamo fatto quattro gol in transizione oggi cioè in ripartenza diciamo così con Ovisac che è bravo a farsi trovare a sinistra punta Marenko mette questo pallone in verticale per Tomminello che si inserisce con i tempi giusti nel mezzo spazio sinistro e poi cross basso in mezzo per Gomez che fa 2-0 quindi bel gol, bella azione e nel secondo tempo cambia qualcosina in Latina che era partito anche bene devo dire perché ha cambiato anche leggermente qualche posizione in campo difendendo 5-2-3 con l'ingresso di Cico poi ovviamente era un 5-3-2 di base però a seconda di dove era la palla si alzava la mezzala di parte per schermare però non difendeva più come inizialmente e poi peraltro quando pressava alto i due centrocampisti che erano di Livio i due mezzali più che altro di Livio e Cico andavano a uomo sui nostri due registi quindi hanno cambiato anche qualcosa rispetto al primo tempo però hanno subito due gol su due errori clamorosi da parte loro diciamo che ci hanno regalato abbastanza i gol, noi bravissimi a sfruttarli per carità però errori grossolani da parte loro e ripeto hanno avuto bene perché hanno aggredito in avanti perché erano anche corti quindi hanno fatto anche abbastanza bene per 5 minuti però poi Cico sbaglia un passaggio orizzontale incredibile Tuminello al 49esimo apre per Silva 1 contro 1 con l'avversario, penso Vona rientra sul mancino, fa un gol incredibile a giro e fa 3 a 0 e poi dopo 4 minuti arriva un altro gol che nasce da un cross di Bocic che si era aperto a destra in ampiezza per ricevere palla e crossare la nostra difesa respinge arriva Tuminello che viene anticipato in letto da Di Renzo Di Renzo però era l'ultimo uomo e praticamente anticipando serve in un qualche modo Gomez anche in maniera molto sfortunata Gomez di prima trova Tuminello che parte in posizione regolare c'è una prateria, non c'è nessuno arriva a tu per tu col portiere peraltro tira anche abbastanza male perché tira abbastanza debole e centrale Cardinale non trattiene e quindi arriva il 4 a 0 loro poi hanno perso fiducia e quindi ci hanno lasciato la costruzione abbiamo costruito anche bene sulle catene trovando il possibile gol con Gomez al 59esimo azione costruita a sinistra che porta al fallo di Ercolani su Ovisac in posizione molto allettante defilata a sinistra punizione laterale che batte Giron sul secondo pallo dove Vona trattiene Gomez e calcio di vigore che purtroppo lo stesso capitano sbaglia con Cardinale che indovina l'angolo e quindi si resta sul 4 a 0 poi nel finale devo dire fino all'ottantesimo abbiamo cercato di non abbassarci di giocare palla a terra l'abbiamo fatto anche abbastanza bene sfruttando ovviamente il momento favorevole e poi nel finale spazio anche a Barberis che due o tre passaggi le ha sbagliate anche abbastanza clamorosi quindi ancora a diventare un po' anche mentalmente nell'organico diciamo se vogliamo da questo punto di vista qui e poi è entrato anche Cantisani a fare prima l'esterno sinistro poi ha cambiato anche posizione comunque inizialmente la partitura esterno sinistro poi con gli ultimi cambi quelli di Groppelli e di Colai si difende con un baricentro un po' più basso infatti Colai è entrato come esterno sinistro Groppelli come terzino sinistro e Colai lavorava praticamente sulla nostra tre quarti in non possesso e poi con l'ingresso di Daprile come braccetto a sinistra si è difeso 5-3-2 con Colai che ha fatto la mezzale devo dire si è fatto anche trovare con voglia con personalità quindi ha fatto anche mi sembra un bel riscaldamento appena prima di entrare ho visto con la cosa all'occhio che faceva un po' di corse quindi si vedeva che aveva voglia visto che il ragazzo comunque ha trovato poco spazio finora quindi questa era un'opportunità importante per lui comunque io a questo punto mi fermo vi do appuntamento alla prossima ciao a tutti ragazzi grazie a tutti